Stanno meglio gli anziani intossicati nell'incendio di giovedì pomeriggio all'interno di un appartamento al terzo piano di una palazzina in via 4 novembre nel quartiere Belvedere ad Arezzo. Il ruogo ha danneggiato alcuni appartamenti rendendoli al momento inagibili. Le fiamme si erano sviluppate le 17 e 30 di giovedì dal malfunzionamento di un ferro da stiro che aveva poi azionato un corto circuito e fatto esplodere infine un televisore. Le fiamme avevano fortemente danneggiato un primo appartamento al quarto piano e quello attivo. Oltre due appartamenti al quarto piano erano stati fatti poi evacuare per precauzione altri sei appartamenti. Al momento sono in corso le verifiche per capire quali siano i danni e se i residenti possono tornare a casa. Due anziani dei quattro intossicati tutti in età compresa tra i 79 e gli 86 anni non avendo parenti sono stati ospitati dal comune di Arezzo in un albergo cittadino dove rimarranno fino a che non sarà trovata una soluzione. Altri due invece si trovano da alcuni parenti come gli altri residenti evacuati. Sull'incendio e sulla sua origine stanno indagando i carabinieri e il personale tecnico dei vigili del fuoco.